L'esperienza del Flussamite è stata estremamente interessante perché intorno allo suo tavolo sono uniti professionisti con obiettivi comuni ma che vedono il suo problema con sfaccettature e con aspetti profondamente diversi. Sentire comunicatori, pediatri, igienisti che mirano ad aumentare le coperture vaccinali nell'anziano, proteggere i nostri azioni è stato un grande goal di questo evento.